Oasi Bianca sarà inaugurata, magari andremo a richiamare i due amici stasera perché sicuramente verranno a dirci che cosa è successo dopo un anno, c'era uno del pubblico che voleva intervenire dal fratello. Sì, forse invece senza microfono, secondo me, ma proviamo, proviamo. Allora, io devo dire, devo dire, posso dire? Allora, i policci, quando il tubo è in un forno, ha spettato la pizza, la mettono là, e qui sei pronta la pizza, 5 minuti e 4 minuti, se sono 2 minuti o 3 minuti, e ci siamo riusciti. Siamo gli ultimi di tutta Italia! Ho già creato una vita! E mi sembra di andare a questa porta, o ci intendo, o ci intendo, o non andò. Del resto, come si dice, a me mi chiede, gli ultimi saranno i primi, e i primi saranno io. Nessuno lo troppo di quando morire. Per chi non ci conoscesse, lui è Michele Norillo, io sono Giovanni Mancini, e me ne sono i momenti che non ci sono i primi, spesso io divento Michele Norillo e lui diventa Giovanni Mancini. e allora io noto spesso, certe signore, quando voglio fare, spesso che mia moglie voglio fare, spesso che voglio fare, vedo queste signore tutte imbattite, che pigli e fanno, mi fa un netto di prosciutto, me la taglia, un po' di lombata, mi faccia un po', e io faccia un po' di madonna, quando io volessi acciacca nutalla questa. Perché? Perché sei una vera signora, di quelli che vengono dalla religione dell'estrazione sociale, di quella colta, dove si è sempre parlato l'italiano, se tu ci accupi da questa qua, quello a me non mi ha fatto ci accupi da qua, e io non ho già potuto ascoltare il mio dialetto, quindi, no, ritorno. Apli vete, Metser valse novi, Venni te adorem. Venni te adorem. Venni te adorem. Grazie a tutti.